buonanotte coccinelle ecco un esemplare di capo scout durante un campo estivo vi siete mai chiesti che cosa mi passa per la testa? ah che giornata fantastica che è stata oggi avete visto come erano carini quei lupi e le coccinelle con quei visini tutti dolci 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 e quella coccinella che è venuta con me e mi ha dato un abbracciatore prima di dormire prima che gli mettevo quella copertina che gioia nel cuore che danno queste lupette di coccinelle si ma è solo il primo giorno mi mancano sette si ma dai insomma ma c'è tutta la notte davanti a noi mi sono resta il cappello da soli hai tentato quanto puttano? si ma non dormiremmo mai è il primo giorno se sa chi provo ancora a toccarmi io sclero ma dai a me sono stanca appunto è il primo giorno domani sarò sempre meglio dai a me sono ancora più stanca sono ancora più stanca in questo è il cappello che c'è niente è spesso comodo Arcana che cosa è stato? cosa è stato? sei un bambino chiamano sei un bambino aiuto non mi provo calma calma paura 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 torga il test controllo controllo io giuro che vado là e gli stacco la testa mamma adesso vedremo cosa se non sarà su la rapina di moccolo ma non sarà sarà già morto vedrete sarà sarà già morto avrà solo voglia di stare ammazzo io ammazzo io se non coccigane l'ammazzo io questo ce lo fa l'ino io l'avevo detto che non ero pronta madarkad che se è? non ero pronta madarkad ragazzi andiamo a vedere cos'è e e poi chi è? arcana si arrivo caci ma cosa c'è? io sto sudando troppo ma basta che ti apri un po' apri un po' sa capello che c'è caldo eh così che stai bene stai bene adesso? si aveva solo caldo di peccato che era piena di sudore l'hai sentita? si ma si ma non fira è piccolino non fira ce ne sono 37 poi c'è intanto domani faccio impazzire a chela così impara basta io mi devo riprendere andiamo a letto andiamo a letto mi devo riprendere mi devo riprendere Arcana! Non ci credo! Non ci credo! Voglio andare là! Non ci vedrà! Non ci torno! Sono un capo! E questo è il mio compito! Devo rassicurare le cucinelle! Perché non sono stato a fare? Io non lo so di parolazione sperimentale! Siamo venuti in questa settimana e sapevamo che poteva succedere questa cosa! Andrà tutto bene! Sarà come l'altra! Dobbiamo solo tirarli via la coperta! Andiamo! Ok! No! 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 No!